Terza edizione per il Fogliano Book Festival che si svolgerà a Fogliano della Chiana in provincia di Arezzo dal 5 al 19 novembre. Nato nel 2019 da un'idea dell'assessorato alla cultura e patrocinato dalla regione toscana, il festival offre un ricco calendario di presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli e mostre, con un protagonista principale, il libro. Noi abbiamo creato questo Book Festival tre anni fa nel 2019 allo scopo di sensibilizzare semplicemente le persone alla lettura, cioè far venire voglia alle persone, agli abitanti non solo di Fogliano ma insomma della nostra area e possibilmente di tutta la Toscana, di leggere e di incontrare gli scrittori perché poi molto spesso incontrare chi scrive i libri in voglia a leggerli perché ci sono dietro storie, interpretazioni. E quest'anno abbiamo un bellissimo programma devo dire, abbiamo un buon numero di scrittrici donne ma importanti come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al premio Strega, Federica Bosco che è toscana e Gaia Cenciarelli che è romana, poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni, Pupiavati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche e poi tra i romani l'importante è Miguel Gotor che è l'assessore, del Comune di Roma, della cultura del Comune di Roma e parlerà del suo libro sugli anni 70, gli anni di Piombo.